In questa puntata, rigassificatore, compensazioni per Piombino. Toscana, bilancio di metà mandato. All'isola d'Elba, questa non è una regata. Capodanno dell'annunciazione ad Arezzo. Alla betone, Pinocchio sugli sci. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni, dopo l'arrivo della nave rigassificatrice a Piombino, ha annunciato di presentare una mozione al Consiglio regionale per sollecitare il governo a ridurre le bollette per i cittadini e le imprese. Quindi una mozione come atto di indirizzo perché spetta al governo la riduzione. Sulle compensazioni Gianni ha giocato l'ennesima partita tutto da solo. Ha mancato di coinvolgere il sindaco della città, andando lui direttamente a trattare con il precedente governo queste pseudocompensazioni. In realtà molte delle quali sono già sulla carta degli accordi di programma che da decenni vedono il comune di Piombino in attesa della pulizia e del recupero di aree enormi che sono considerate SIN, le aree speciali dal punto di vista dell'inquinamento ambientale. Quindi ogni compensazione è sempre ben accetta all'interno di un territorio, forse anche più grande, perché il danno minacciano soprattutto i comitati, l'amministrazione. Oltre il semplice porto, la sola città, ma riguarda tutta la Val di Cornia che aveva intrapreso uno sviluppo dal punto di vista turistico, ricettivo e ambientale. Ovvio che il tema dei gas si è acuito negli ultimi mesi per colpa naturalmente della guerra, ormai è un anno, per colpa della guerra determinata dall'invasione russa dell'Ucraina. Quindi non disconosciamo certamente l'esigenza di approvvigionare il nostro paese, ma questo memorandum fatto da Gianni in realtà il Consiglio regionale non l'ha mai sostanzialmente visto né mai l'ha approfondito esattamente come la città di Piombi. Io credo che l'atteggiamento che il Presidente della Giunta regionale ha avuto su questo tema sia sempre stato estremamente chiaro e coerente. Da una parte ravvisando la necessità di un intervento che va a rispondere ad una serie di esigenze che non possono essere sottaciute per i nostri territori, ma dall'altra parte con la volontà di mediare quanto più possibile per recepire le istanze dei territori. Quanto dichiarato dal Presidente della Giunta va in questa direzione. Io sono convinto che anche grazie alla sua capacità di mediazione si potranno traguardare dei risultati importanti anche su questo tema. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi a distanza appunto di tutto questo tempo sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone e questo non lo possiamo accettare. Numeri, dati e tabelle sugli esiti delle attività amministrative di governo è la relazione Prima Meta sulla prima metà del mandato della Giunta regionale della Toscana guidata da Eugenio Gianni, presentata con un evento a Firenze con i sindaci del territorio. Gianni e gli assessori hanno fatto il punto su sfide, traguardi e progetti in corso. A nostro avviso il giudizio è negativo. A sua scusante possiamo dire che è entrato in un momento come la ripresa della seconda ondata del Covid che certamente non lo ha aiutato e questo bisogna dargliene atto. Attualmente, ma alla fine della pandemia, la sua direzione è sicuramente contraria a tutta la nostra visione politica, una visione neoliberista, volta soprattutto alla realizzazione di grandi opere, a nostro avviso assolutamente non condivisibili, a cominciare dall'aeroporto che oggi ha ribadito in aula essere tra le sue principali priorità, come non abbiamo assolutamente niente in comune. Abbiamo visto il disastro anche della sanità pubblica che non è assolutamente aiutata, colpa anche del governo Meloni. Sì, però probabilmente si potrebbero fare delle scelte diverse, mi riferisco anche alla dismissione di tutti gli ospedali periferici, iniziata da Enrico Rossi e sicuramente non ostacolata dal presidente Gianni. Questa prima metà mandato di Eugenio Gianni sancisce quello che ormai è sotto gli occhi di tutti, cioè il fatto che la sinistra non può più governare questa regione. La sinistra di Gianni è totalmente incapace di governare, non è in grado di dare una risposta a una ai cittadini, non è in grado di portare avanti un progetto, uno di investimento in questa regione. Sfido il presidente Gianni, non ho partecipato alla sua chermessa al Teatro della Compagnia, ma vorrei capire quali grandi opere ha presentato. Sfido il presidente Gianni a raccontarci di un'opera che la regione toscana ha portato avanti in questi due anni e mezzo. Non c'è un'infrastruttura completata, non c'è una grande infrastruttura avviata, tutte le grandi promesse, i ponti, la Darsene Europa, l'aeroporto di Firenze, non c'è un'opera che è partita. Si parla soltanto di risanare buchi, di coprire disastri provenienti dal governo del passato, non ci sono investimenti, non c'è cambio di marcia, quindi non capisco, non vedo come questa sinistra possa ancora tra due anni e mezzo presentarsi e chiedere di essere riconfermata la guida della regione. Il nostro è un giudizio positivo, abbiamo sostenuto il presidente Gianni, lo continuiamo a sostenere, ovviamente siamo stati in alcuni momenti critici ma in altri momenti molto lungimiranti e credo che arrivare a metà mandato con una maggioranza compatta sia un elemento di forza per il presidente. Sono stati dei passaggi non banali, oggi tutti si mettono sulla banchina di Piombino a guardare il rigassificatore, vorrei ricordare che in quel momento quando l'abbiamo discusso in Consiglio regionale il mio è l'unico voto a sostegno di quell'iniziativa, altre furono le mozioni che furono approvate, altra quel livello di discussione e io sono contento che oggi anche altri soggetti e in primis ovviamente il presidente, che devo dire la verità ha sempre creduto nell'intervento e ha sempre avuto il sostegno di Italia Viva, il mio personale, il Consiglio regionale ha fatto bene ad andare avanti come commissario. Nello stesso tempo le nostre battaglie di rivendicazione, se pensiamo anche al diniego rispetto alla battaglia sull'aumento delle tasse, rispetto alla battaglia per non fare il nono assessore, ma nel frattempo sostegni a tante questioni, all'impiantistica sportiva, alla voglia, alla volontà di discutere sul tema dei rifiuti, sulle questioni che riguardavano il piano regionale di sviluppo, molte questioni che riguardavano le imprese, il sostegno alle infrastrutture, penso alla nuova pista dell'aeroporto, quindi noi siamo stati determinanti in questa prima metà del mandato. Sicuramente la spinta nostra riformista è determinante per un presidente che ha bisogno di avere una forza politica che lo sostiene e che non fa compromessi, ma come nel nostro caso è un Consiglio regionale, diciamo, è coerente con quegli impegni che avevamo preso in campagna elettorale, quindi piena fiducia a Gianni per un secondo metà di mandato, sul quale ovviamente faremo sempre sentire la nostra voce, ma anche il nostro sostegno. Un giudizio alquanto deludente, fatto esclusivamente di slogan, si promettono 100.000 posti di lavoro e soprattutto si dice che andremo successivamente a visitare tutti gli ospedali per verificare le carenze, soprattutto nei pronti soccorso. Ecco, noi questa visita come gruppo lega l'abbiamo già fatta, abbiamo già perlustrato e analizzato tantissimi pronti soccorsi della Toscana, direi quasi tutti, e potremmo noi fare una relazione al presidente Gianni di quanto siano in difficoltà in medicina d'urgenza i nostri medici, i nostri infermieri, le nostre ossa all'interno di pronto soccorso della Toscana. Basta slogan, ormai due anni e mezzo di giunta sono già passati, ci aspettiamo delle risposte, non per noi, ma per tutti i cittadini toscani. Addirittura il presidente Gianni si spinge oltre, va al 2030, dando già per scontato la sua rielezione. Ecco, di questo noi non siamo per niente convinti, come Centro-Destra Unita siamo pronti nel 2025 a governare la Toscana. Devo dire che ieri è stata una mattinata importante perché i lunghi mesi di pandemia hanno un po' focalizzato l'attenzione tutta sulla gestione dell'aspetto sanitario che peraltro è stata riconosciuta a livello nazionale come una delle migliori sia dal Dipartimento di Protezione Civile ma se vediamo le statistiche di Agenas o di altri enti terzi vediamo che la Toscana non solo ha retto la pandemia ma ha anche distribuito capillarmente i vaccini raggiungendo performance importantissime ma questo dicevo ha focalizzato l'attenzione facendo anche perdere di vista invece le tante cose fatte su tutti gli altri ambiti nei quali la Giunta regionale è impegnata quindi sicuramente un giudizio positivo e anche un punto importante per impostare la seconda metà mandato con un nuovo impulso un nuovo slancio sulle partite strategiche che ancora abbiamo di fronte. Una tre giorni all'insegna della sostenibilità ambientale quella organizzata da Riduci l'impronta dall'8 al 10 aprile con il contributo del Consiglio regionale della Toscana l'iniziativa dal titolo Questa non è una regata avrà come base principale Porto Azzurro all'Isola d'Elba Quest'iniziativa che avverrà intorno al weekend di Pasqua è un modo anche per raccogliere risorse per sostenere iniziative a sostegno dei diversamente abili è un progetto che va avanti da tempo è un progetto molto bello è un progetto che ci vede tutti vicini David Sassoli diceva la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno ecco penso che questa iniziativa vada esattamente in questa direzione e oggi essere qui è presentata in Consiglio regionale del senso della strada da percorrere Riduci l'impronta va nel senso della sostenibilità ambientale e noi anche nella nostra struttura di Sassi Turchini è una struttura che ospita sia l'associazione Gruppo Elba ma ospita anche tantissime altre realtà del territorio toscano e non soltanto del sociale quindi persone con disabilità e tanti altri gruppi sarà un pochino appunto il fulcro a terra in cui si faranno tutte le iniziative collaterali alla raccolta raccolta che inizierà in mare come vi spiegavano prima e inizierà poi la domenica mattina dalla piazza di Porto Azzurro tentando di coinvolgere anche chi non sarà arrivato in barca con noi attraverso la regata ma sarà sul luogo la domenica sera faremo una premiazione che metterà assieme sia l'abilità marinara che anche chi più è riuscito a raccogliere L'edizione 2023 delle celebrazioni per il Capodanno dell'Annunciazione si svolgerà ad Arezzo da venerdì 24 a domenica 26 marzo fino al 1749 l'anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo giorno in cui la Chiesa Cattolica aveva collocato la festa dell'Annunciazione nel quale oggi si organizza ogni anno il corteo storico una data che noi abbiamo riportato a quello che è identità e memoria della Toscana attraverso i gruppi e le rievocazioni storiche ogni anno in una città diversa quest'anno ad Arezzo ma il segno di una Toscana dalle mille tradizioni a cui quella del primo giorno dell'anno a primavera il 25 marzo forse è una delle più belle è il modo perché tanti italiani e toscani si rendono conto che quando noi nel nostro calendario vediamo gli ultimi 4 giorni dell'anno scopriamo che settembre 7 mesi dopo marzo ottobre 8 mesi dopo marzo novembre 9 e dicembre sono 10 mesi dopo marzo alla Betone si lavora senza sosta per l'imminente avvio sulla montagna pistoiese delle fasi conclusive di Pinocchio sugli sci da domenica 26 marzo a sabato 1 aprile attesi sulla montagna pistoiese oltre 1600 atleti italiani 30 delegazioni estere e ospiti prestigiosi per le fasi conclusive della 41esima edizione dell'evento sciistico per bambini e ragazzi tra i più celebri al mondo Pinocchio sugli sci porta in alto il nome della Toscana nel mondo e siamo felici quest'anno come ufficio di presidenza di dare il nostro contributo perché in questi due anni e mezzo abbiamo deciso di investire tanto sui giovani e i giovani i ragazzi più piccoli i campioni del futuro unito a quello che è un simbolo della Toscana nel mondo Pinocchio non possono essere che la massima espressione di quella che è la rappresentazione della Toscana che noi vorremmo ed è per questo che abbiamo deciso di fare la nostra parte e di essere presente a questa iniziativa di cui andiamo orgogliosi un evento molto importante perché a livello internazionale richiama atleti giovanissimi da tutto il mondo ed è un'occasione unica da qui da questa manifestazione sono partiti i futuri campioni e speriamo che continuino a partire i futuri campioni è importante sia per la visibilità internazionale per l'afflusso turistico che comporta e per una visibilità della Marche oserei dire a betone a livello mondiale da noi sono passati i più forti atleti mondiali dalla Sofia Goggia per esempio la prossima settimana all'inaugurazione dell'internazionale sarà con noi Matteo Marzaglia che ha deciso di smettere adesso ma è stato un grandissimo discesista a Federica Brignone tutti sono passati per il Pinocchio sugli scimi ma anche atleti esteri di livello internazionale grazie a tutti grazie a tutti